ciao discipulino sono francia oggi siamo qui in questo nuovo video di di nessun gioco perché volevo fare un video sui regali che ho ricevuto per il mio compleanno allora si gli iscritti che ho fatto il live precedentemente inizio con l'elenco dei regali che ho ricevuto sta polo quella dell'alcott molto carina dai ci sta perché non è di colore verde né blu e quindi nei miei video nelle mela posso utilizzarla senza che il green screen mi vada a togliere il colore nella maglietta quindi fa schifo fa un effetto schifoso senza colore poi come seconda cosa come noterete dietro di me la mia sedia da gaming e quanto può molleggiare si può settare diciamo settare poi c'è dei braccioli inalzabili molto comodi però che devo farci un attimo abitudine perché sono più alti dell'altra sedia quindi con il mouse devo tenere il braccio un po più alto e diverso e nel blu carina brutto per il green screen purtroppo perché me lo mi toglie il colore e bella scorre abbastanza bene scorre bene e niente niente da dire poi come terzo regalo ho ricevuto queste cuffie della logitech le g430 adesso vi faccio sentire pure il test audio vediamo com'è si posso cacciare dei bella da paura ok adesso dovremmo star parlando con il microfono della logitech ditemi come va come si sente secondo me si sente abbastanza bene dico e niente cioè insomma abbastanza microfono buono vi devo sparare un bella bella ok l'ho sparato questo è stato bello secondo me niente spero che vi sia piaciuto il microfono e niente ah cazzo lasciato il bicchierino qua e anche il top donator e il disco vabbè fa lo stesso vai vai regali allora ho avuto quello la sedia la 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 cuffia poi ho ricevuto il poi ho ricevuto una tastiera meccanica molto buona ovvero questa ragazzi ovviamente diverso e poi come ultimo regalo no penultimo regalo perché oltre a quello ho ricevuto pure un pigiama un pigiama ecco come ultimo regalo ho ricevuto questo cazzo non posso farvelo vedere perché guardate che sarebbe il tappetino della stessa marca della tastiera e retroilluminato con i bordi illuminati e bellissimo al tatto ed è pure touch perché se lo tocchi cioè se lo tocchi in un punto lui cambia il colore può mettere il colore che vuoi adesso faccio vedere che vuoi adesso faccio vedere Questa è la tastiera invece, molto bella. E tastiera molto valida, mouse molto valido. E niente, i regali sono finiti qua. Ragazzi spero che vi sia piaciuto, ditemi cosa ne pensate nei commenti. E restate aggiornati, iscrivetevi al canale per futuri contest giveaway che verranno fatti settimanalmente, quasi settimanalmente. E niente, ci rivedete un po' il suo video. Bella Cipollini.